Anna Ross è la protagonista della serata di vite nella seconda giornata di Squisito 2010. Il tema di Squisito di quest'anno è ritorno alla semplicità. Cosa significa ritornare alla semplicità per una chef di alto livello, nell'alta cucina gourmet? Ma io credo, si parla tanto della cucina della nonna, piaciuta, non piaciuta, oppure un po' dimenticata. Credo che il ritorno alla semplicità vuol dire prima ritornare alla qualità e al gusto, dunque un po' alla cucina della nonna, e poi ripartire da lì. Credo che ne abbiamo bisogno tutti. Della semplicità, perché la cucina senza semplicità e senza un po' semplificare le cose non potrebbe più andare avanti. Questo però non significa sacrificare il gusto, la qualità e l'unicità di uno chef? Ma secondo me vuol dire dare spazio allo gusto, perché in tutti gli ultimi anni si è lavorato molto sulle tecniche di elaborazione del prodotto, ma alla fine le tecniche, le essenziali devono rimanere, ma più che elabori il prodotto, più ti allontani del gusto originale. Secondo me il motivo della semplicità dovrebbe essere quello, un po' semplificare la cucina, farla più vicina al gusto e al gusto dell'uomo.